Infatti, tra l'altro, anche qui, è uno di quei casi in cui si parte da zero e si arriva, tac, in un attimo a 50 passi membri del team tech, no? E certe volte si chiede anche, ma a cosa servono tutte queste persone, no? Alla fine tanto la piattaforma è quella, no? Magari non si vedono neanche tante modifiche esternamente, no? Dalla tutente, ma in realtà sono veramente tanti fronti da gestire. Già il fatto di essere multi device significa avere tante competenze anche in ambiti diversi. Immagino che sono diversi tipi di problemi da gestire, lato applicativo, tra back-end, front-end, tutti questi tipi di applicazioni. Quindi immagino che sia anche un po' questo, no? Il fatto che sia arrivati a più di 50 persone.